Cari telespettatori per il secondo anno consecutivo festeggiamo il Dante Dì. Infatti oggi 25 marzo è una data che gli studiosi riconoscono come l'inizio del viaggio letterario di Dante nella Divina Commedia. E non potevamo non celebrare questa giornata insieme all'ente carnevalesca che, lo ricordiamo, ha dedicato il Carnevale di Fano 2021 proprio al sommo poeta. Do il benvenuto a Maria Flora Gianmarioli, presidente dell'ente carnevalesca. Buonasera a tutti, grazie, ben trovati. Tra l'altro una giornata che cade proprio nel Settecentenario. Sì, beh, è una giornata molto importante proprio perché non solo il Ministero ha istituito ormai da due anni il Dante Dì, come tu hai detto, per onorare forse il più grande poeta di tutti i tempi, ma anche perché quest'anno appunto cade nel Settecentenario e noi come carnevalesca non potevamo non pensare, non onorare questa giornata. E come lo abbiamo fatto? E come lo facciamo? Con una breve, simpatica lettura di un racconto di Fabio Tombari che parla proprio della Divina Commedia. Fabio Tombari lo conosciamo tutti, è un nostro scrittore, forse uno dei più conosciuti, che ha ricevuto premi e onoreficenze in tutta Italia quando era in vita e fu, nacque da semplici origini, diventò poi maestro elementare, ma fu uno dei primi scrittori in Italia, ha poi lasciato l'insegnamento, uno dei primi scrittori in Italia a vivere di scrittura. Quindi penso sia importante che i giovani, le giovani generazioni non dimenticano questo personaggio, questo personaggio un po' particolare. Lui era un antroposofo, seguiva i dettami, diciamo, di questo esoterista Rudolf Steiner, e insomma era un personaggio particolare e ricordo che mia mamma mi raccontava che il mio nonno Rino Fucci, allora insomma a Fano, vicepresidente della Carnevalesca, insomma si conoscevano, si incontravano, insomma mamma mi diceva e non lo diceva sempre che insomma era veramente un personaggio, un personaggio un po' particolare. Fabio Tombari poi si ritira a Rio Salso e muore nel 1989, avendo scritto e avendo fatto una produzione innumerevole di opere, oltretutto pubblicate da grandi case editrici come l'Arnoldo Mondadori. e il brano, il racconto che questa sera ascolterete dalle voci dei nostri amici, grandi attori, fanesi, Claudio Pacifici e Marco Florio, è un racconto tratto da Pensione, Niagare e altri racconti, un libro che fu pubblicato da Mondadori nel 1969. Quindi c'è proprio un connubio tra Fabio Tombari e Dante, così come vediamo sul titolo il riportato alle nostre spalle. Sì, 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 questo racconto è un breve racconto, anche simpatico, molto ironico, dove Fabio Tombari attesta che la Divina Commedia debba essere dipinta da qualcuno, debba essere illustrata. E si rivolge a grandi pittori, da Raffaello al Beato Angelico, fino a che, insomma, ha avuto tutta questa diatriba con questi grandi personaggi, si domanda dove mettere la Divina Commedia nella biblioteca, dove posizionarlo. Non può stare tra i filosofi, perché non è solo filosofo, non può stare tra i poeti, perché non è solo poeta. Allora dividiamo le tre cantiche, l'inferno lo possiamo mettere vicino ad Omero, ma poi il paradiso no. Insomma, c'è tutta questa diatriba filosofica leggera, diciamo così, tra sé e sé. Dopodiché, alla fine, insomma, arriva la sua mamma che dice ma cosa hai combinato, ma hai fatto un macello dentro casa, adesso basta, questa Divina Commedia te la metto sopra la rola, così quando la vuoi leggere ce l'hai a disposizione e adesso è ritornato tuo padre, il pesce è cotto, andiamo a mangiare. Insomma, questo è quanto. Insomma, molto simpatico, quindi a lei l'onore di lanciare questo racconto. Sì, allora vi lascio a Claudio Pacifici e Marco Florio che ringrazio di cuore da parte della Carnevalesca per offrire la loro arte al Carnevale, a tutti noi a Fano e in questo appunto breve racconto di Fabio Tombari, La Divina Commedia. È tanto che penso di fare e illustrare la Divina Commedia. Una bella Divina Commedia illustrata a mano è l'unica cosa che mi manchi ed è vergogna che una casa come la mia ne sia sprovvista. Spenderò, ma ciò che è necessario è necessario. Dovessi vendere il gatto? Certamente è difficile trovare chi la illustri. Ci vorrebbe un pittore coi baffi, alla Salvatore Dalì. Riservato, modesto, basta e non basta. Ce ne vogliono almeno tre, uno per cantica, un pittoraccio da cacciare all'inferno, un incisore più sereno che forte, da purgatorio, e un dipintore paradisiaco. Ah, voi, Bonarroti, illustratevi l'inferno. Il Bonarroti era nella caverna, nudo, villoso, terribile. Il naso schiacciato teneva sulle ginocchia il peso del vecchio documento e guardava, guardava l'ultimo suo capolavoro, la montagna. A massi, a schegge, a colpi aveva colpito, scolpito, stagliato sulle apuane una montagna. Una grossa apuana pesante nel cielo roseo della sera. Io lavorerò per l'inferno, mi disse. Rembrandt mi farà lo sfondo e lascerò il canto quinto. Per il canto quinto vedremo di accomodarci. Pago bene? Con tanti e sonanti. Ma contento di una ringa. Allora non fate per me. E me ne andai da Raffaello. È della mia provincia. Bel giovane, Raffaello. Possiamo darci del tu. Raffaello tutto in sordina, i colori smorzati dalla patina del tempo. E non è il tempo. Il cielo, quel giorno, era chiaro, limpido. A parlare forte si doveva sentire distante un miglio. Alberetti graziosi colorono i colli. Ecco, mi disse. Metterò mano al purgatorio. Ma non rispondo per la cima. Che cima? La cima del Sacromonte. Sa, ci sono delle difficoltà, delle sottigliezze spirituali. Io vedo lo spirito. Però quei fiori, quegli angeli, quel bianco ostia e quell'oro calice, non sono ancora nel paganesimo. E che c'entra il paganesimo? Nulla, nulla, ragazzo. Ne ho platonismo. Segreto professionale. Tuttavia, per gli alti balzi del purgatorio e per i cieli della cantica divina, meglio che vi rivolgiate al santo. Che santo? Il beato angelico. Fra Giovanni da Fiesole, sospetto d'eresia, lo trovai di prima mattina che tutte le campane suonavano a gloria. Un branchetto di tenebre, un branchetto solo, era rimasto laggiù, sotto le querce, e si sentiva la voce di una gazza sul pruneto sgridare i passerottini. Screanzati. Cici di qua, cici di là. Senza regola, senza garbo. Per la smania di parlare tutti insieme. E intanto non mi è stato possibile dire il mio fervorino a frate sole. Ditelo voi. Ditelo voi, corvo. Ditelo voi, il fervorino al sole. Ma questa è una gabbia di matti. Mi dica un po', Fra Giovanni, da quando in qua le gazelle parlano? Sempre. Per chi sta in solitudine e in contemplazione le cose parlano. Bel tipo anche questo. Che Dio gli tenga la sua santa mano in capo. E il paradiso di Dante, me lo farete, buon fratticello? Ah, il paradiso no. Mi disse. Il paradiso no. Ego nun sum dignus. Rivolgetevi a nasaccio. Ma voi li avete fatti, i vostri paradisi, con gli angeli, gli arcangeli, le mandole, i liuti. Ma i paradisi sono per i poveri di spirito. Perché non vi rivolgete a Cimabue, a Giotto? Se però volete un paradiso a modino, con i fiori e le trombe d'argento che ci batte il sole e con le belle mani degli angeli, io ve lo faccio. Lo volete? Io lo voglio come lo ha fatto Dante. Con permesso. Disse. Con permesso. È suonata la campanella del refettorio. Accidenti alle regole e al refettorio. Quando suona il Magnificat. Signor Da Vinci, me lo farete voi il sommo Giove che fu in terra per noi crocifisso? Stava come Faust. Una corona di nubi gli cingeva la fronte. Pareva un alchimista avvelenato. Tutta barba com'è. Rovistava tra libri, bottiglie, tegami, ricette. Scavava nell'ombra. Sul pavimento uno scheletro d'uomo. Un piccone. Come va? Come va? Si guadagna? Non rispose. Prese una fialetta verdastra e la scrutò contro luce. Ho capito. Un medicinale. Ma dite un po', Sor Leonardo, fate il becca morto o il dottore? Ragazzo, sei così ingenuo da fare queste distinzioni? Il becchino completa il medico. Ma quello è un medicinale. Sì, è un gas asfizziante. Ce l'avete a morte con gli uomini, dunque. Li amo. E allora perché questi intrugli da speziale? La scienza. Quando avrò posto termine alla medicina per guarire dal male della vita, metterò mano al calcolo infinitesimale, finirò il pipistrello meccanico, darò gli ultimi tocchi al cenacolo e ti illustrerò l'enimma forte. No! Dio! Ma avete a illustrare! Il 510 e 5. Benone, prima illustrerete il vostro 510 e 5 e poi Dio. Ti illustrerò il veltro. Grazie. Che bella cosa, signor Da Vinci, il veltro illustrato. Quindi illustrerete Dio. Giuda. Giuda illustrerò. Ma Dio, chi illustrerà Dio? Chiunque. Anche Melozzo. Basta che tu dica voglio il volto di uno che non somiglia a nessuno. Capì che era pazzo, povero Leonardo, e rinunciai all'impresa. Col libro tutto nuovo, senza nemmeno una macchia, me ne ritornai a palazzo. Un calcio all'uscio diabete entrai incognito nei miei privati appartamenti. E avevo scordato il pinturicchio. Sarò poco stupido. Ora bisognerà che metta a suo posto questo volume, pensai. Con Bertoldo e la Marcolfa non lo posso mettere. Né con i reali di Francia. Vero che è leggenda, ma non è solo leggenda. Né lo posso incastrare tra il Vecchio e il Nuovo Testamento. Mettiamolo con Virgilio e con Omero. Però non è giusto. Con l'Odissea può calzare l'Inferno, non il Paradiso. Questa è più alta materia. Allora, facciamo così. Dividiamo il volume in tre parti. L'Inferno con Omero, con Virgilio, con Shakespeare, con Eschilo e Sofocle. Qua il Furgatorio, con l'Ariosto. E perché no? Con Morselli, sì, sì. Con Morselli e Petrarca. E i due Tasso. Padre e Figlio. Perché c'è anche il Padre, quello dell'Aurore. Va bene così? Benone. Ma avanza il Paradiso. Non c'è modo di ficcarlo in qualche posto, questo benedetto Paradiso. Eureka! La Summa! Il Paradiso con la Summa. Magari con i fioretti, con la leggenda dei tre compagni e con la vita prima e l'imitazione. Bene, per Dio! Così avevo deciso e diviso. Quando trovo per terra e questo? Da dove scappa fuori? Accidenti a Ramavani e Mabarata. Anche Dante era mago. Mago più degli altri maghi tutti. Il mago sta bene con i Tommasi. Non era lui pure un alchimista? E avevo già preso la nuova determinazione quando mi balenò un'idea che era un lampo. Se non è possibile fare posto a Dante con questo criterio, bisognerà provvedere con un'altra mentalità. Dividiamo dunque le civiltà artistiche in parti uguali. Civiltà orientale greco e latina medioevo barbarico. Umanesimo, rinascimento, decadenza, romanticismo, modernismo, futurismo e altre balle. E dividiamo la commedia in nove parti. Cominciamo dall'inferno. Una parte medioevo barbarico. Una parte con romanticismo. Tanto Dante è anche romantico. Dove si sono mai vedute tante ombre, tanti fantasmi. Mettiamo dunque questi dodici canticoi nordici del nord e la tedescheria. Nascima del purgatorio con il rinascimento e il paradiso. Tutto il santo paradiso. Non c'è modo manco stavolta. Finalmente pensai all'unico rimedio. Raccogliere tutti i pezzi di Dante, incollarli, coprirli un'altra volta, fare poi una nuova cernita e metterlo coi geni. Quando avrò stabilito sulle modalità e le norme, non avrò che da prendere in esame le mille proposte di ammissione che mi vengono da ogni parte. Che seccatura! questi uomini di lettere. Ma io ho risposto a tutti per le rime. Signori, ho detto, non basta aver stampato cento volumi né essere stati decantati. Guardare Cervantes, là, per terra, come un mendicante. Quello è il genio. E forse anche quel povero cane col suo Bertoldo. E voi? E voi che vi fate avanti più degli altri, che cosa avete creato voi? Frusaglia. Andate a Balia. Ma io li prenderò tutti i miei geni, i più potenti, i più terribili. Li scaraventerò dentro una scansia e in alto, in alto, come un gufo sulla ruina, metterò Dante, l'Eterno, in gran giudice. Carlai e le Mazzini mi aiutino. Genio è colui che per forza di stirpe o per unione divina apre al mondo una nuova via, crea la nuova storia, scaglia sull'enigma una più potente luce. Ma Dante? Cosa apre Dante? Che illumina? Egli chiude dietro di sé il Medioevo, getta una nuova tenebra, fra noi e Dio, spalanca un più profondo abisso, distrugge la storia e il progresso. In questo entrò mamma. La seguiva Ruffo Raffo dalle zampe di velluto traditore. Figlio mio, cosa hai fatto? Niente, metto a posto Dante. Ed è per questo che l'hai fatto a pezzi e mi hai messo sottosopra la casa? Dallo a me, lo metterò coi libri della messa sulla cappa della rola. Così quando tornerai da caccia coi piedi bagnati dalla neve e ti scalzerai e ti metterai accosto al fuoco, potrai reggere il tuo paradiso. Provvisoriamente mamma, farò così come tu vuoi. Per dopo ho pensato farò fare una cassettina, una teca, un reliquiario, un tabernacolo e lì, lì solo, come un ciborio, vi metterò Dante il tempio di stile romanico. Fa come credi. Semplice, semplice come il romanico. Sarà di stile romanico è un po' come il gotico, tendente all'alto. Va bene, va bene, va bene. Come il gotico dunque. Però non sarà male che la linea sia classica alla maniera greco-latina. Magari con dei fregi, bizantini, azzurro, oro e carminio. Che Dante è anche bizantino. Se non fosse vissuta Ravenna, credi che avrebbe potuto fare il paradiso? Nemmeno la cima del purgatorio. Conobbi il tremolar della marina. E dove? Se non sull'Adriatico, alle var dell'aurora? Sì, adesso andiamo però. Però, vedi mamma, sarebbe bene che l'ornamento fosse orientale, anzi, arabo-moresco, perché Dante è il primo dei geomanti e dei fedeli d'amore. Io non capisco niente. Ne voglio saper niente. Babbo è venuto e il pesce scotta. Ma è colpa mia se Dante vede l'universo dentro anziché fuori. Grazie a tutti. Grazie a tutti!